Il tema di questa edizione è la rete della vita, cioè come tutti gli esseri viventi sono connessi gli uni con gli altri e come la vita va davvero immaginata come una rete, come una rete da pesca. Ogni volta che scompare una specie, scompare un nodo di questa rete, quindi fino a un certo punto la rete funziona, poi non funziona più, collassa e noi dobbiamo evitare che questo accada. Indagare l'interdipendenza che tiene insieme tutti gli esseri viventi per accrescere la consapevolezza che i ritmi di consumo delle risorse naturali e di riduzione delle altre forme di vita non sono più sostenibili per il pianeta e che quindi preservare la natura è ormai un imperativo categorico. Questo è il filo conduttore della seconda edizione di Pianeta Terra Festival, la rassegna dedicata all'ambiente e alla sostenibilità organizzata dai editori La Terza con la direzione scientifica di Stefano Mancuso e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Dal 5 all'8 ottobre la città tornerà a tingersi di verde, con oltre 70 incontri, lezioni, spettacoli e ospiti di altissimo livello del panorama nazionale e internazionale. Tra i nomi già confermati Peter Wadams, tra i massimi esperti di ghiaccio marino e oceani polari, Yad Winder Mali, docente di scienze degli ecosistemi all'Università di Oxford, Chiara Pavan, chef stellata tra le prime a realizzare la cucina ambientale in Italia. Scienziati, economisti, filosofi e innovatori offriranno il proprio contributo per far conoscere a fondo i problemi del presente al fine di individuare e proporre le strade per un futuro più sostenibile. Ci auguriamo che veramente queste giornate servano a far sì che in chi lo frequenterà salga l'attenzione per i problemi sulla transizione ecologica e verso una sostenibilità più adeguata a quelle che sono le risorse del nostro pianeta.